La Lega si è messa a disposizione superando gli interessi di partito perché è un momento straordinario, come dopo la seconda guerra mondiale. Bisogna ricostruire fiducia, salute e lavoro. Quindi superiamo le ideologie, le etichette, Lega, PD, 5 Stelle, Forza Italia e restituiamo agli italiani salute, lavoro e fiducia. Poi ovviamente con la sinistra torneremo a dividerci e a battagliare perché su tanti temi la vediamo in maniera diversa. Però l'emergenza in questo momento è restituire salute e lavoro agli italiani. Faccio un'ultima domanda. Come vede la nomina di Figliuolo come nuovo commissario all'emergenza Covid? Benissimo. Passare dai proclami e dalle promesse non mantenute di Arcuri e dalla scarsa trasparenza che ha contraddistinto questa gestione. a un generale dell'esercito, a un alpino che si è occupato di logistica in Italia e nel mondo, penso che sia un chiaro segnale di come il governo Draghi punti sulla concretezza, sul merito e sull'efficienza.